di iniziare così diamo la possibilità a tutti i partecipanti di accedere. Siamo ormai alla terza tappa, quindi al terzo webinar del ciclo sul decennio digitale europeo che vi ricordo è un evento organizzato congiuntamente tra tre centri Europe Direct, in particolare quello di Roma 3 che è stato anche il promotore dell'iniziativa, dello Europe Direct Roma Innovazione Operativo presso il Forma XPA e il terzo Europe Direct che è operativo presso l'Università di Siena. Oggi parleremo di intelligenza artificiale nel contesto del futuro quadro normativo europeo e poi volevo ricordarvi così alcune informazioni di carattere generale, innanzitutto vi ricordo la pagina che l'Unione Europea ha dedicato all'intelligenza artificiale che vedete ora nelle slide e che vi consigliamo di consultare qualora voleste seguire questi temi, così come volevo ricordarvi che attualmente per questo periodo di programmazione è operativo un programma di finanziamento che si chiama Europa Digitale che è la prima volta che viene stanziato e all'interno di questo programma una parte del budget è dedicato proprio per bandi dedicati all'intelligenza artificiale. Proprio in questi giorni sono stati pubblicati nell'ambito di questo programma i tre programmi annuali di lavoro e nei prossimi giorni saranno anche pubblicati i primi bandi, quindi se siete interessati a presentare proposte di progetto nell'ambito del programma Europa Digitale seguite la pagina che vi ho indicato nelle slide perché ormai la pubblicazione dei bandi è prevista tra qualche giorno. Vi ricordiamo sempre che come Europe Direct Room Innovazione noi siamo anche hub per organizzare attività e dibattiti nell'ambito della conferenza sul futuro dell'Europa dove i cittadini sono invitati ad esprimere le proprie idee su quelle che sono le priorità dell'Unione Europea ma anche su quelle che sono proprio le nostre priorità. Si può selezionare l'argomento e vi ricordiamo che tra gli argomenti previsti nell'ambito della piattaforma c'è anche la trasformazione digitale, quindi invitiamo tutti i cittadini a contribuire con le proprie idee, a plasmare quello che sarà il futuro dell'Europa. Ora vi do qualche indicazione dal punto di vista così operativo. Per quanto riguarda l'attestato di iscrizione lo riceverete una settimana dopo l'evento, vi sarà inviata una mail da parte dello staff e dopo aver ricevuto questa mail dovrete compilare il questionario di valutazione. Solo dopo aver compilato il questionario di valutazione potrete scaricare l'attestato di iscrizione. Vi ricordiamo inoltre che la videoregistrazione dell'evento, comprese le slide che saranno proiettate queste mattina, saranno disponibili sulla pagina dell'evento che avete utilizzato per iscrivervi. Vi ricordiamo come sempre il nostro focus europa.formez.it dove trovate all'interno sia le banche dati, in particolare la banca dati dei finanziamenti europei, così come avete la sezione dei bandi scadenza, quindi dove potete consultare tutti i bandi che vengono pubblicati dalla Commissione europea nell'ambito dei diversi programmi e dei diversi settori. In più vi ricordiamo che noi abbiamo una newsletter elettronica. Se volete essere informati sulle attività che organizziamo vi consigliamo di iscrivervi alla newsletter elettronica, perché per un problema di protezione dei dati noi possiamo inviare le mail soltanto agli iscritti alla newsletter previo appunto consenso al trattamento dei dati. In più vi ricordiamo che abbiamo un nostro account Twitter, così come di recente abbiamo anche aperto un canale su YouTube. Vi ricordiamo che oltre alla pagina europa.formez.it abbiamo la pagina dedicata all'innovazione digitale che è i gov.formez.it dove noi abbiamo fatto proprio una selezione dei bandi inerenti all'innovazione digitale e dove pubblichiamo anche tutti i bandi inerenti all'intelligenza artificiale. Vi ricordiamo poi come consueto che abbiamo operativo un nostro sportello informativo che in tempo di Covid è online, quindi ci potete inviare una mail e noi poi dopo vi mandiamo un link e quindi possiamo incontrarci online per rispondere alle vostre domande. Così come oltre ai focus che vi ho menzionato esiste anche un altro focus che è programmicomunitari.formez.it che è un focus interamente dedicato ai finanziamenti diretti dell'Unione Europea. Nel frattempo vedo che sono entrati la maggior parte dei partecipanti, quindi lascerei la parola al professore Raffaele Torino che è anche il moderatore del nostro evento. Grazie Raffaele, prego. Buongiorno a tutti anche da parte mia, benvenuti a questo terzo seminario sulla bussola digitale europea, sul decennio digitale europeo. Come voi tutti forse sapete nel marzo di quest'anno la Commissione con una sua comunicazione ha lanciato la bussola digitale europea. Nell'ambito della bussola digitale europea un ruolo centrale è sicuramente svolto dall'intelligenza artificiale, perché la Commissione europea si propone, secondo me forse con un termine di raggiungimento fin troppo lontano, vista la rapidità con cui ci si muove in questi contesti, il 2030, di trasformare digitalmente l'Europa. Dicevo, nell'ambito di questa trasformazione digitale un ruolo centrale è sicuramente svolto dalla cosiddetta intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale di cui la Commissione si occupa da tempo e anche per introdurre il tema mi piace leggere la definizione di intelligenza artificiale contenuta nella comunicazione del 2018 della Commissione europea l'intelligenza artificiale per l'Europa. Che cos'è l'intelligenza artificiale secondo la Commissione europea e poi sentiremo i nostri esperti se condividono o meno questa definizione. Intelligenza artificiale indica sistemi che mostrano un comportamento intelligente analizzando il proprio ambiente e compiendo azioni con un certo grado di autonomia per raggiungere specifici obiettivi. I sistemi basati sull'intelligenza artificiale possono consistere solo in software che agiscono nel mondo virtuale per esempio assistenti vocali, software per l'analisi delle immagini, motori di ricerca, sistemi di riconoscimento vocale e facciale oppure incorporare l'intelligenza artificiale in dispositivi hardware per esempio in robot avanzati, autoguida autonoma, droni o applicazioni dell'internet delle cose. Ecco sulla base di questa definizione che dà la Commissione europea il processo di integrazione europea che è evidentemente il contesto di fondo dell'intervento dell'istituzione europea ha deciso di indirizzare questa trasformazione digitale. Fin dall'aprile del 2018 è stato elaborato un piano strategico sull'intelligenza artificiale che ha dato luogo poi a un piano coordinato sull'intelligenza artificiale, un'altra comunicazione della Commissione. Nel febbraio 2020 sempre la Commissione ha pubblicato un white paper sull'intelligenza artificiale, un libro bianco, stabilendo sette principi chiari. E infine nell'ottobre del 2020 con tre raccomandazioni il Parlamento europeo ha spinto, ha sollecitato la creazione di un quadro normativo comune fra i Paesi membri dell'Unione europea. E sempre nell'ottobre del 2020 lo stesso Parlamento europeo ha preso una risoluzione su uno dei temi centrali dell'intelligenza artificiale, cioè sul regime di responsabilità civile conseguente all'intelligenza artificiale. Da questo è seguito proprio nell'aprile del 2021, quindi pochi mesi fa, una proposta di regolamento che stabilisce, che intende stabilire delle regole uniforme, armonizzate fra i vari Paesi membri dell'Unione europea sull'intelligenza artificiale. E quindi si è anche immaginato di rivedere il piano coordinato sull'intelligenza artificiale. Cosa fa l'Italia? Per quanto mi è dato sapere nel luglio dello scorso anno sono state pubblicate le proposte per una strategia italiana per l'intelligenza artificiale e se non vado errato dovremmo attendere in questi giorni proprio il programma strategico nazionale sull'intelligenza artificiale. Quindi, e mi accingo a dare la parola ai nostri esperti, siamo in un momento particolarmente importante rispetto alle decisioni che saranno prese sul futuro dell'intelligenza artificiale, sul ruolo dell'intelligenza artificiale. Per questo motivo oggi abbiamo deciso, insieme agli altri Euro Direct di Siena e del Formez, di avere un webinar particolarmente ricco, particolarmente intenso, con ben quattro ospiti in luogo dei consueti due con cui noi gestiamo i nostri webinar. E infatti avremo Piero Poccianti, Presidente dell'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale, abbiamo con noi Emanuela Girardi di PopAEI e abbiamo anche il Professor Domenico Pratichizzo dell'Università di Siena, a cui faranno seguito, vedremo a che punto arriverà, ci raggiungerà Vittorio Calafrice della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Quindi ben quattro relatori. Proprio per questa ragione chiedo ai relatori che sono stati così cortesi da essere qui con noi, cercare di contenere il loro intervento in circa quindici minuti. E mi scuseranno se mi vedranno riapparire in video quando i quindici minuti sono scaduti e da lì capiranno che devono evidentemente andare verso le conclusioni. Quindi, detto ciò, mi accingo subito a dare la parola a Piero Poccianti, al Presidente dell'Associazione Italiana che ci parlerà dello stato dell'arte dell'intelligenza artificiale, i suoi limiti, i suoi successi. Grazie nuovamente di essere con noi e buona relazione. Grazie di avermi invitato, buongiorno, grazie a tutti e a tutte per l'attenzione. Io cercherò in un quarto d'ora di darvi non molto più di una definizione perché tenete conto che un corso introduttivo di intelligenza artificiale all'università dura sei mesi, io sei mesi non ce l'ho e quindi cercherò di essere breve ma di darvi dei contenuti. Allora, prima di tutto che cos'è l'Associazione? L'Associazione Italiana per l'intelligenza artificiale è un'associazione senza fini di lucro che è nata nel 1988 ed ha l'obiettivo di diffondere la conoscenza sull'intelligenza artificiale sia fra i ricercatori, facendoli contaminare l'uno con le conoscenze dell'altro, sia le aziende sia il grande pubblico. Quindi volentieri adedisco a questa manifestazione perché è nel nostro statuto. È il membro italiano dell'EURAI, l'Associazione Europea di Intelligenza Artificiale che ha come membri le associazioni in ogni paese membro. La Germania ha la più grande associazione europea di intelligenza artificiale, l'Italia è al secondo posto, quindi siamo ben messi da un punto di vista di associazione. L'associazione ha più di mille membri sul libro soci e ha una serie di gruppi di lavoro che si occupano di vari argomenti legati all'intelligenza artificiale e fa eventi, come dicevo prima, noi quest'anno avremo la nostra conferenza dal primo al 3 dicembre che è la conferenza dedicata ai soci, è una conferenza scientifica, il 23 di novembre avremo l'iForum che è una conferenza fatta per parlare col mondo delle imprese che si occupano di intelligenza artificiale e poi facciamo eventi per i ragazzi e per il pubblico in generale. Ci sarà un dibattito il primo di dicembre aperto al pubblico, proprio condotto da dei ragazzi delle scuole. Allora, prima di dire cos'è l'intelligenza artificiale, parliamo di che cos'è l'intelligenza. Tenete conto che noi non abbiamo una definizione di intelligenza in realtà. Alan Turing nel 1950 dice, in un famoso articolo scrive, ma possono le macchine pensare? E per capire questo io dovrei capire cosa vuol dire macchina e cosa vuol dire pensare. Su cosa vuol dire macchina se la cava molto bene, perché crea quello che noi oggi chiamiamo macchina di Turing, che è un algoritmo che descrive bene i nostri computer moderni. Su cosa vuol dire pensare si arrende e dice non ce la faccio e inventa Limitation Game, che è un gioco dove se la macchina riesce a eguagliare le capacità dell'uomo, allora noi diciamo che la macchina è intelligente. Beh, in realtà diciamo che noi possiamo definire l'intelligenza in un altro modo. Possiamo dire che un essere intelligente, sia che stiamo parlando di una macchina, sia che stiamo parlando di un uomo o di un animale, è un'entità che riesce a creare un modello della realtà e poi interpreta gli stimoli che gli arrivano in base a quel modello, non solo, ma trova delle soluzioni ai problemi ragionando sul modello. Quindi diciamo, scusate, ecco vado avanti, la definizione, la moderna scienza dell'intelligenza artificiale risale circa 1943 con la definizione di come potrebbe funzionare un neurone artificiale, data da McCulloch e Pitts, sono due ricercatori americani, nel 50 esce questo articolo di Alan Turing che vi ho citato e nel 55 c'è la proposta del congresso di Dartmouth, che è il primo congresso di intelligenza artificiale in America, dove viene proposto il termine intelligenza artificiale. Allora, diciamo, l'intelligenza artificiale è una disciplina che appartiene al campo della computer science e che usa al suo interno tutta una serie di strumenti e paradigmi per far sì che le macchine abbiano quel comportamento intelligente che vi è stato spiegato essere nella definizione europea. I due grandi insiemi che possiamo contraddistinguere da questi strumenti, che sono tanti, sono gli strumenti simbolici e quelli subsimbolici. Gli strumenti simbolici sono quelli che usano il ragionamento, la logica, la rappresentazione della conoscenza, mentre quelli subsimbolici cercano di emulare come funziona la natura e per esempio le reti neurali e artificiali cercano di emulare come funziona il cervello. Diciamo, il Dipartimento della Difesa americano distingue tre epoche nell'intelligenza artificiale. Loro parlano di un'epoca dell'intelligenza fatta a mano, che vuol dire che devo spiegare alla macchina tramite dei linguaggi simbolici che cosa dovrà fare o qual è il problema. L'epoca dell'apprendimento statistico, dove siamo oggi, dove stiamo avendo grandi successi grazie alle Deep Neural Network, queste reti approfondite, e si immaginano un'evoluzione futura dove le macchine riescano ad adattarsi al contesto, cosa che oggi non sanno fare. Fondamentalmente loro dicono che le macchine hanno quattro facoltà, io ne ho aggiunta una. Le macchine sono molto lontane da quell'idea di General Artificial Intelligence che ogni tanto vediamo nei film di fantascienza. Non sono macchine dotate di autocoscienza e di volontà propria, però in compiti specifici sanno fare delle cose eccezionali. Sanno percepire, quindi riconoscere dei suoni, riconoscere delle immagini, riconoscere delle situazioni. Sanno imparare attraverso degli esempi, imparano a costruire quel modello di cui parlavo prima, anche se se la cavano piuttosto male, perché per imparare qualcosa, per esempio a distinguere un gatto da un cane, una macchina ha bisogno di qualche milione di esempi. A un bambino gli basta una decina di esempi, perché? Perché il bambino sa astrarre. La macchina se la cavano molto male sull'astrazione per ora, e questo è uno dei punti di attenzione della ricerca in campo europeo. Invece le macchine se la cavano molto bene a ragionare e sanno fare piani, sanno individuare soluzioni, sanno anche spiegare perché, cosa che nella parte di apprendimento, soprattutto nella parte di percezione, sono scarse. Ma è chiaro, anche noi siamo così, nel senso che quando ragionate per istinto, poi se vi domando perché avete fatto una certa cosa, balbettate un po'. Le macchine hanno anche una grande capacità di ragionamento, bene, come dicevo, di reazione. Quindi sanno fare delle invenzioni. Perché? Perché riescono a esaminare tantissime situazioni diverse e a individuare cose che magari a noi sfuggono. Quindi la prima epoca è un'epoca contraddistinta da macchine che fanno bene il ragionamento ma imparano molto poco e anche la vera percezione se la cavano male. L'epoca attuale noi abbiamo macchine che imparano anche con quei limiti che ho detto prima e percepiscono molto bene, però sanno fare poco astrazione e poco ragionamento. Mettendo insieme queste facoltà noi speriamo di arrivare a macchine che abbiano una certa capacità di astrazione e di adattarsi a contesti diversi. Si tratta di mettere insieme strumenti diversi. Questo non ci deve meravigliare perché anche noi in un cassetto degli attrezzi usiamo strumenti diversi. Diciamo sicuramente anche strumenti diversi a livello mentale, però se vogliamo fare una metafora, diciamo che in un cassetto degli attrezzi io ho il martello e ho le pinze, ho le taraglie, ho le pinzettine da unghie. Ecco, per piantare i chiodi va benissimo usare il martello per farsi le pedicure è meglio usare un'altra cosa. Questo succede anche nel cervello e anche nell'intelligenza artificiale. Questo è un esempio di creatività, per esempio. Questa è una fotografia di Firenze e questa è una fotografia di Firenze tradotta da una macchina a cui sono stati fatti vedere tanti quadri di Kandinsky. Quindi in qualche modo ha imparato un pattern, ha imparato una configurazione e poi utilizza quella configurazione per trasformare l'immagine in un quadro di Firenze, chiaramente non fatto da un artista, fatto da una macchina. Da Cristi qualche anno fa è stato presentato un quadro fatto da un'intelligenza artificiale, la base d'asta era di 7 mila dollari e poi l'ha comprato uno a 132 mila dollari. Poi si può ragionare sull'intelligenza di quello che l'ha comprato, ma questo è un altro ragionamento. In qualche modo l'intelligenza artificiale riproduce nei suoi vari paradigmi quello che Daniel Kahneman, premio Nobel per l'economia, è uno psicologo che ha preso il premio Nobel per l'economia, dice essere il pensiero veloce e il pensiero lento. Il pensiero veloce è quello intuitivo e il pensiero lento è quello invece basato sul ragionamento, è quello che ci fa fatica a fare, diciamo così. Noi siamo fatti così, siamo fatti di pensiero lento e pensiero veloce e anche l'intelligenza artificiale è fatta di pensiero lento e pensiero veloce. Ecco, ora io non pretendo che voi leggiate questo codice, questo è una cosa scritta in prolog, sono una decina di righe e questo fa parte del pensiero lento, fa parte di uno strumento simbolico che usa la logica e questo programma dato a una macchina è capace di risolvere il sudoku, molti di voi fanno il sudoku, è solo un esempio di un gioco chiaramente ma fa capire qual è il discorso e qui noi vediamo che con 10 righe molto dichiarative, perché qui c'è scritto che la lunghezza delle righe deve essere sempre di 9 elementi, che le righe devono ottenere sempre elementi che vanno da 1 a 9, che gli elementi devono essere tutti distinti, c'è scritto questo. Questo è capace poi di funzionare, cioè diventa una macchina che riesce a risolvere qualsiasi sudoku. Questo è mettere insieme due metodi, questo è un programmino a cui io faccio vedere un quaderno dove sopra c'è il sudoku e questo riconosce l'immagine, riesce a tradurre l'immagine in un mondo simbolico, lo passa a un programma come quello che avete visto prima, che risolve il sudoku e poi mette a video la soluzione. La soluzione sono quei numeri verdi che in realtà non esistono, che vengono proiettati sullo schermo, mentre i numeri sono quelli visti dentro il giornalino, dentro il sudoku scritto. Allora io ho praticamente finito questa brevissima introduzione e quello che vi dico è che l'ultima cosa che vi voglio dire è che l'intelligenza artificiale, pur appartenendo al mondo della computer science, si comporta in modo leggermente diverso dai nostri computer tradizionali. Non è una macchina che prende decisioni da sola, ma è una macchina dichiarativa, cioè noi siamo abituati a pensare agli algoritmi come a qualcuno che detta un algoritmo a una macchina e poi la macchina lo esegue. Ecco, l'intelligenza artificiale non è mai così. Noi dobbiamo descrivere il contesto, capire quali sono i nostri obiettivi, capire quali sono i vincoli e gli strumenti a disposizione ed è la macchina che inventa l'algoritmo. Questa è la sostanziale differenza. Questo ci fa anche capire che se puntiamo sugli obiettivi sbagliati noi rischiamo di produrre effetti distofici. Se riusciamo a descrivere gli obiettivi giusti, come potrebbero essere i 17 obiettivi dell'ONU per esempio, noi potremmo usare le macchine a nostro vantaggio per produrre delle evoluzioni e una crescita del benessere vera. Mi fermerei qui. Ringraziamo moltissimo Piero Poccianti, è stato rispettosissimo dei termini di tempo, oltre che è molto interessante e ovviamente tutti noi immagino avremo tante domande e approfondimenti. Anzi, lo richiamerei un momento in video se volesse fornire anche ai nostri, a chi ci ascolta, un'indicazione, uno, due libri che secondo lui devono essere, sono imprescindibili per chi vuole approcciare e comprendere l'intelligenza artificiale. Ne parlerà anche Emanuele Girardi successivamente, ma noi abbiamo fatto un libro che è fatto per i cittadini e per i decisori politici su intelligenza artificiale e sviluppo sostenibile. E' un libro che trovate nell'edizione CNR, ora appena riesco ve lo metto in chat o se no ve lo mette Emanuela subito dopo, e è composto da 4 o 5 capitoli. Il primo capitolo spiega che cos'è l'intelligenza artificiale, meglio di quello fatto io in pochi minuti. Il secondo capitolo riguarda le strategie di tutti i paesi del mondo sull'intelligenza artificiale, e ne abbiamo individuate 62, spiegate anche in modo semplice, diciamo, e le differenze fra le varie strategie. Il terzo capitolo è un capitolo sull'intelligenza artificiale e lo sviluppo sostenibile, che è quello di cui vi parlerà Emanuela. C'è un quarto capitolo sulla negoziazione, che spiega come gli strumenti di intelligenza artificiale possono aiutare i processi di negoziazione, che sono fondamentali per raggiungere lo sviluppo sostenibile, come se visto anche nella COP26, e l'ultimo capitolo sono raccomandazioni al mondo politico. Io per ora vi consiglio di leggere questo. Grazie, grazie mille Piero. Allora, visto che hai proprio invocato l'intervento di Emanuela Girardi, che ringrazio personalmente per essere qui con noi, le chiedo anche a lei di apparire in video, ecco la vedo, buongiorno Emanuela. Buongiorno Raffaele, buongiorno a tutti. Ad Emanuela abbiamo chiesto proprio di focalizzare la sua attenziale sull'intelligenza artificiale e lo sviluppo sostenibile. Anche a te Emanuela l'invito a stare intorno ai 15 minuti e quando mi vedi riapparire, non ti preoccupare. A te la parola. Benissimo, grazie e buongiorno a tutti, buongiorno e grazie ancora per avermi invitato. Io ho la voce un po' così perché purtroppo ho preso un bruttissimo raffreddore, però spero riusciate ad ascoltarmi lo stesso, normalmente sono più squillante. Bene, io ringrazio anche Piero che ha già introdotto l'argomento dell'utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile. Con l'Associazione Italiana di Intelligenza Artificiale e con Piero abbiamo fatto questo lavoro molto importante proprio per cercare di dare anche, di fornire un utilizzo concreto di quello che possono fare le tecnologie di intelligenza artificiale per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Questa era già una visione che avevamo inserito nella strategia italiana per l'intelligenza artificiale che avevi citato prima Raffaele, che è stata pubblicata l'anno scorso luglio e abbiamo cercato di elaborarla ulteriormente e di andare a cercare proprio in prima fase di cercare di creare un po' un quadro, un contesto generale e dell'altra di andare a identificare quelle che sono già le best practices mondiali, alcune anche italiane tra l'altro, dove sono già utilizzate queste tecnologie in modo concreto, efficace e quotidiano per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile. E' stato molto interessante quello che avete detto all'inizio cioè che quello che serve in questo momento è proprio di cercare di capire il contesto anche riguardo anche la definizione che ha dato prima Raffaele delle tecnologie di intelligenza artificiale cioè in quella definizione c'è un obiettivo da raggiungere e c'è un contesto c'è un ambiente circostante che viene analizzato attraverso la raccolta dei dati e che permette diciamo con un comportamento che diciamo semi autonomo autonomo di raggiungere un determinato obiettivo. Noi quindi abbiamo identificato negli obiettivi i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e nel contesto abbiamo fatto un'analisi con una serie di considerazioni iniziali prima di scrivere questo capitolo e quello che è venuto fuori è che sicuramente è fondamentale avere una visione sistemica coordinata che è anche un po' il risultato di quello che è venuto fuori dalla COP26 e questo perché se noi pensiamo per esempio ai 17 obiettivi non possiamo pensare di raggiungerne solo uno senza tenere in considerazione gli altri per esempio se pensiamo all'obiettivo 2 e l'obiettivo 2 di ridurre la fame nel mondo noi potremmo pensare di aumentare tantissimo le coltivazioni però magari dovremmo utilizzare dei pesticidi, degli insetticidi e questo avrebbe un impatto sull'obiettivo 13 del clima e quindi a questo punto dobbiamo sempre pensare a una visione di sistema anche nell'utilizzo di queste tecnologie per raggiungere i vari obiettivi di sviluppo sostenibile. E l'altra parte che è stata citata brevemente da Piero riguarda l'utilizzo di queste tecnologie, questi aspetti un po' duali, cioè queste tecnologie ci permettono degli strumenti come spiegava bene Piero che ci offrono delle grandissime possibilità ma ci sono anche dei rischi connessi al loro utilizzo e in questo caso quindi bisogna farne un utilizzo consapevole cioè conoscerle bene e utilizzarle in modo consapevole. Fatte queste premesse queste considerazioni noi abbiamo fatto un ulteriore analisi su quello che è il contesto e abbiamo identificato tre elementi fondamentali che devono essere tenuti in considerazione prima di utilizzare queste tecnologie. Il primo è che bisognerebbe affrontare utilizzare un approccio pianetocentrico e non umanocentrico. Il secondo è definire bene quelle che sono le risorse scarse dal punto economico e il terzo elemento invece riguarda gli indicatori che dobbiamo utilizzare per misurare poi il raggiungimento degli obiettivi. Per quanto riguarda il primo noi sappiamo che la visione europea dell'intelligenza artificiale è una visione umanocentrica e secondo noi questo oggi non è più sufficiente e quindi serve un po' una sorta di cambio di paradigma perché mentre la visione europea porta al sostiene che l'utilizzo di queste tecnologie devono migliorare la vita dell'uomo secondo noi oggi per migliorare la vita dell'uomo e dell'umanità dobbiamo mettere al centro il pianeta e considerare che l'uomo è solo uno degli elementi all'interno dell'ecosistema mondo e questo è un elemento che è stato molto discusso alla COP26 e credo che questo cambio di prospettiva a questo punto sia stato adottato un po' da tutti quindi fondamentale è capire che al centro di tutte le politiche deve esserci il pianeta e non solo l'uomo perché l'uomo è uno degli elementi diciamo dell'ecosistema. Il secondo punto invece riguarda un po' l'identificazione di quelle che sono le vere risorse scarse oggi. Noi pensiamo che l'economia tradizionale identificava come risorse scarse il lavoro e il capitale risorse che oggi non sono più poi così scarse anzi ci sono in abbondanza e oggi le vere risorse scarse in realtà sono le risorse naturali e a questo proposito è molto interessante le teorie sono molto interessanti le teorie politiche di Kenneth Boulding l'economista che dice che dobbiamo passare da un'economia del cowboy dove fondamentalmente si pensava che le risorse naturali fossero infinite e limitate a un'economia dell'astronauta cioè pensare alla terra come una sorta di astronave dove tutte le risorse sono finite e soprattutto dove devono essere tutte riutilizzate in un'ottica proprio di economia circolare. E l'ultimo aspetto che abbiamo considerato riguarda proprio come misurare il raggiungimento di questi obiettivi. Se noi abbiamo deciso di mettere al centro il pianeta e il benessere dell'umanità come obiettivo finale e abbiamo deciso di e abbiamo capito quali sono le risorse scarse da misurare a questo punto gli indicatori che venivano utilizzati tradizionalmente cioè il PIL che misurano il profitto non sono chiaramente più sufficienti perché magari la misurazione del profitto potrebbe inficiare il raggiungimento di alcuni degli obiettivi di sviluppo sostenibile o proprio non tiene conto di quello che è il benessere delle persone. E quindi ci sono dei nuovi indicatori che sono stati sviluppati in Italia ci sono anche dei movimenti di economisti a livello internazionale che stanno identificando dei nuovi indicatori in Italia per esempio utilizziamo gli indicatori base il benessere equo e sostenibile e a livello internazionale c'è un movimento che si chiama BANGGP cioè di andare oltre proprio la misurazione del PIL. Questo è fondamentale perché per sapere se noi abbiamo raggiunto l'obiettivo dobbiamo poterlo misurare e dobbiamo misurarlo con degli obiettivi con degli indicatori che siano corretti e coerenti soprattutto con gli obiettivi che vogliamo raggiungere. Detta questa faccia diciamo questa introduzione che è fondamentale per capire il lavoro che abbiamo fatto e soprattutto per poter utilizzare in modo consapevole e corretto quegli strumenti quindi le tecnologie di intelligenza artificiale noi abbiamo preso i 17 obiettivi dell'ONU e abbiamo cercato appunto di e per ogni obiettivo di identificare le opportunità e i rischi correlati al raggiungimento di quell'obiettivo e abbiamo cercato di identificare alcuni casi pratici pratici di applicazione che ci sono già nel mondo. Vi parlerò brevemente di 3 e 6 di G perché altrimenti sforo poi dai miei tempi e comunque ci sono per ogni obiettivo ci sono chiaramente un capitolo dedicato. Ci tenevo molto a parlarvi del primo che è zero povertà, eliminare la povertà perché tutti siamo tenuti un po' a pensare che la povertà sia una povertà diciamo economica finanziaria cioè il fatto che non si riesca ad arrivare a fine mese fondamentalmente con lo stipendio da noi almeno. In realtà la povertà oggi ha molte dimensioni e le tecnologie di intelligenza artificiale possono proprio aiutarci a misurare, a controllare queste varie dimensioni e a fornire un supporto decisionale per poter intervenire con delle politiche specifiche. Le dimensioni della povertà oggi sono fondamentalmente anche la povertà educativa quindi il fatto di non avere delle competenze necessarie per poter partecipare, competenze digitali necessarie, prima si parlava della bussola digitale per partecipare attivamente a quella che era società moderna digitale del futuro. Oppure la povertà relazionale cioè il fatto di pensate per esempio a tutta la fascia della terza età che è rimasta bloccata per mesi e mesi durante il lockdown e non ha avuto la possibilità di avere delle relazioni sociali, anche a questo aspetto ha un impatto molto importante e la povertà anche di accesso a dei servizi sociali, quindi servizi sanitari o i vari servizi che vengono offerti, che è correlato anche alla povertà educativa. A tale proposito c'è un progetto molto interessante che viene stato portato avanti in Italia che si chiama Ampel che analizza le varie dimensioni della povertà e identifica un rischio se rosso, giallo, verde in base diciamo perché Ampel in tedesco vuol dire semaforo e permette di intervenire, di dare un supporto alle strutture locali e comuni per poter intervenire e andare a definire dei programmi ad hoc per evitare poi che una povertà sociale, una povertà educativa si trasformi in una situazione diciamo sanitaria a rischio che quindi la persona abbia poi bisogno di ulteriori cure o supporto. Un altro progetto invece molto interessante che viene utilizzato in alcune regioni africane è un progetto che utilizza le immagini satellitari, vengono analizzate con dei sistemi di deep learning e correla le emissioni di luce alla ricchezza presente nel luogo, cioè minore emissioni di luce corrispondono, si è verificato che corrispondono o minore ricchezza. Anche in questo caso è stato possibile mappare 20.000 villaggi in alcune zone disagiate dell'Africa e poter definire delle politiche importanti, delle politiche specifiche per poter intervenire. Quindi vedete che anche in questo caso le tecnologie dell'intelligenza artificiale sono un fantastico supporto ai decisori politici per poter intervenire e definire delle politiche molto specifiche e molto efficaci. Per quanto riguarda invece l'SDG4, quello dell'istruzione di qualità, anche in questo caso le tecnologie dell'intelligenza artificiale ci permettono una sorta di democratizzazione dell'educazione, cioè attraverso tutti i corsi online che vengono sviluppati ci permette di raggiungere delle fasce di popolazione che altrimenti non sarebbero in grado di accedere a tutta una serie di servizi online educativi dei corsi riguardo alla formazione. Questo è molto importante perché attraverso questi sistemi non solo si riesce ad allargare la platea, quindi far accedere un numero maggiore di persone, ma anche a sviluppare dei sistemi di apprendimento adattivo. E questo proprio, scusate c'ho la voce che sta proprio poco per volta sempre più scendendo, questo perché ci permette di, attraverso queste tecnologie si possono definire dei sistemi di apprendimento personalizzati perché non tutti impariamo allo stesso modo e con gli stessi tempi e quindi con queste tecnologie si possono definire questi percorsi di apprendimento personalizzati e migliorare chiaramente i programmi di apprendimento e anche identificare quelli che sono i gap formativi di alcune persone e quindi andare a sviluppare dei programmi di formazione focalizzati su quelle aree in modo di andare a colmare alcuni gap formativi. Uno dei rischi legati a questo, diciamo, l'utilizzo delle tecnologie per questo SDG è quello di non sostituire, cioè dobbiamo pensare che le tecnologie di intelligenza artificiale non devono sostituire l'uomo e in questo caso sostituire i formatori o gli insegnanti, ma devono essere uno strumento a supporto, quindi a migliorare la vita, diciamo, delle persone, in questo caso a ridurre magari, ad automatizzare alcune delle attività degli insegnanti che possono essere automatizzate, magari che sono anche più, diciamo, burocratiche e amministrative e quindi a liberare risorse che gli insegnanti, professori, possono dedicare poi proprio al rapporto con gli studenti e a sviluppare delle attività in questo senso. Un progetto molto interessante, ve lo cito brevemente, che utilizza le tecnologie di intelligenza artificiale per insegnare ai bambini proprio queste tecnologie stesse, è un progetto che si chiama SMILE, che è l'acronimo di Simple Methods of Artificial Intelligence Learning Education, che utilizza l'AI e la gamification per insegnare l'intelligenza artificiale ai bambini. È un progetto che stiamo portando avanti a Torino con il Politecnico di Torino, l'Università di Torino, Popeyei e la Royal University of London e a diversi partner e ha l'obiettivo di portare queste tecnologie ai bambini per insegnarle già da bambini per poterle poi utilizzare anche in futuro e promuovere una sorta di bilinguismo, diciamo, di queste tecnologie. Quindi insegnarle già da bambini per far sì che quando poi saranno degli studenti all'università o entreranno nel mondo del lavoro, siano in grado poi di utilizzare queste tecnologie nel lavoro e soprattutto anche nella vita di tutti i giorni. L'ultimo SDG che volevo trattare, visto che si è appena conclusa la COP26, è l'SG13, cioè agire per il clima. In questo caso le tecnologie di intelligenza artificiale possono aiutarci moltissimo a creare dei modelli di stima di quelli che sono gli impatti dei cambiamenti climatici. Molto interessante a tale proposito, magari ce ne parlerà Vittorio Caraprice più tardi, è un progetto della Commissione Europea che si chiama Destination Hearts, che sta cercando di creare un gemello digitale della Terra dove si possono misurare proprio quelli che sono i cambiamenti climatici, capire anche in maniera predittiva quelli che sono gli interventi che si vogliono fare e andare ad analizzare e a valutare quelle che sono le politiche che vengono decise dai decisori politici appunto, capirne l'impatto e quindi decidere quale politica potrebbe essere più efficace rispetto ad arte. E l'ultima cosa che vi dico, perché non ce la faccio veramente più parlare, riguarda i rischi dell'utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale, in questo caso, perché le tecnologie di intelligenza artificiale, per esempio se prendiamo magari una Deep Neural Network, richiedono tantissima energia. Molto spesso questa energia viene prodotta da fonti, diciamo, non di energia pulita, quindi fonti carbon fossili. Pensate che per esempio l'addestramento di una rete di Deep Neural Network, di una rete neurale, è stato valutato che richiede quella che potrebbe essere l'energia equivalente di una prodotta o richiesta da una persona in 20 anni di vita, una vita media della persona. Quindi si è cominciato a parlare di quella che è l'impronta del carbonio, la carbon footprint delle tecnologie di intelligenza artificiale. Anche in questo caso, le tecnologie di intelligenza artificiale si possono utilizzare per migliorare l'utilizzo dell'energia che viene prodotta, per esempio per quanto riguarda le smart grid, cioè ottimizzare la produzione e la distribuzione dell'energia. Quello che secondo me è il messaggio che è importante è che c'è sempre un aspetto duale, cioè anche nell'utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale dobbiamo pensare che appunto c'è una, diciamo, ci sono delle emissioni di carbonio e quindi dobbiamo sempre pensare qual è il livello ottimale, qual è il giusto equilibrio, il giusto bilanciamento tra le varie, l'utilizzo delle tecnologie e il raggiungimento dell'obiettivo. E questo è proprio un anche tra l'altro delle raccomandazioni che abbiamo, delle dieci raccomandazioni che abbiamo inserito in questo volume che ho postato prima nella chat ed è proprio il fatto di cercare di mantenere sempre un giusto bilanciamento, un giusto equilibrio e pensare che l'obiettivo finale, cioè quello di non lasciare nessuno indietro e quindi di evitare quelli che sono gli emarginati digitali, deve essere raggiunto cercando di mantenere sempre un equilibrio e avendo chiaramente una visione sistemica su tutti quelli che sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile. E l'ultima cosa è che secondo noi, alla fine come ci ha spiegato bene Piero prima, le tecnologie di intelligenza artificiale sono uno strumento, uno strumento che deve essere utilizzato e ben utilizzato dagli uomini, quindi alla fine è un utile supporto, ma molto importante chiaramente è sempre l'intelligenza umana e quindi che decide come utilizzare queste tecnologie e per quali obiettivi raggiungere. Grazie, grazie Emanuela soprattutto per questo sforzo fisico di mantenere il tono di voce fino all'ultimo ti è costato molto, lo abbiamo compreso, ma sono stati veramente anche molto interessanti questi esempi che ci hai portato perché ci aiutano meglio a capire il mondo dell'intelligenza artificiale che è spesso differente da quelle immagini fantasiosi e fantascientifiche che ciascuno di noi ha in mente. Ma queste applicazioni, questi progetti mi sembrano molto più interessanti e molto più utili di tante cose che abbiamo visto invece nei film. Quindi ti ringrazio veramente, speriamo che la vostra pubblicazione, il vostro lavoro porti a ulteriori risultati concreti di questo tipo rispetto ad obiettivi che noi tutti sulla carta condividiamo, ma che poi abbiamo difficoltà a declinare concretamente, quotidianamente. E penso che invece l'intelligenza artificiale ci possa proprio aiutare in questo. Come dicevi tu, come diceva Piero Poccianti, è un modo per facilitare l'uomo a vivere su questa astronave che non ha risorse infinite. Ecco, grazie veramente. Grazie a voi. Adesso allora, poi vediamo, ci sarà anche un giro di domande se è evidentemente. Adesso quindi do la parola al collega, al professor Domenico Praticchizzo dell'Università di Siena, che ci parlerà anche lui di un altro tema molto specifico, un po' evocato da qualcun altro dei relatori che hanno preceduto, che è il rapporto fra intelligenza artificiale, gli uomini e i robot. Quindi do la parola a lui, vedo che stanno scorrendo le slide e gli chiedo se è pronto. Attiviamo anche l'audio del professor Praticchizzo. Eccoci, vedo che c'è un grande lavorio sul PC del collega. Ora devo, scusate, avevo condiviso lo schermo ma in condivisione di schermo non riuscivo più ad attivare il microfono. Ricondivido lo schermo. Allora, a te la parola e grazie. Grazie. Ecco, ora dovrebbe vedersi anche lo schermo, giusto? Ok, mi date conferma che si vede? Sì, lo vediamo, lo vedo, lo vedo. Parlerò di intelligenza artificiale però nell'ottica del, vediamo di chiudere queste chat, ok, nell'ottica della robotica e vorrei quindi fare un po' una, che cos'è intanto un robot? Un robot intanto è un sistema che si connette a un'intelligenza ma anche a delle braccia e delle gambe, in particolare non sono proprio le gambe e neanche forse le braccia, ma in realtà è una capacità di interagire con l'ambiente, cioè ha la capacità di fare proprio delle azioni fisiche con l'ambiente. Ok, tra le varie intelligenze, definite per esempio da Gardner nel 1989, oltre alle varie intelligenze, l'intelligenza di tipo linguistica, musicale, spaziale, c'è anche una cinestetica e di movimento che io tendo a chiamare sensori motori. Praticamente è un'intelligenza che ci dà l'abilità di fare delle cose, l'abilità di muovere, di manipolare uno strumento, di scrivere, di suonare il pianoforte, insomma tutto ciò che è legato al corpo. Se veniamo anche a quello che è stato lo sviluppo e come la specie umana si è sviluppata nel corso del tempo, le mani, in particolare il pollice opponibile, hanno giocato un ruolo fondamentale perché ci hanno permesso di sviluppare, secondo Anaxagoras, ma secondo anche degli studi molto recenti, la capacità di sviluppare degli strumenti che poi ha sviluppato ancora di più anche la nostra capacità cognitiva, quindi la capacità di intendere, di capire, abbiamo già detto precedentemente che non è difficile, che non è, scusate, semplice definire l'intelligenza, però dal punto di vista dell'intelligenza manipolativa sì, cioè io mi riferisco più che altro all'abilità di fare delle cose con le mani e in generale con l'intelligenza appunto motoria. Bene, io voglio parlarvi proprio di questa interazione che c'è tra l'intelligenza sensori motoria, quindi la capacità di fare delle cose con delle mani dal punto di vista biologico, e la capacità di fare delle cose con le mani da un punto di vista robotico. Sappiamo oggi che le mani robotiche e in generale i robot hanno una capacità di fare delle cose che sono incredibilmente avanzate, sono molto più avanzate della capacità di fare, di manipolare degli uomini, cioè già oggi i robot dal punto di vista della capacità manipolativa, sensori motoria, hanno superato abbondantemente la capacità di operare degli uomini. Per esempio, se si pensa alle operazioni chirurgiche, ci sono delle mani piccolissime che entrano all'interno dell'addome e vengono, mani robotiche, e vengono manipolate dal chirurgo, dall'esterno. Bene, mi piace molto parlare di integrazione di queste due intelligenze e ve lo faccio vedere in questo particolare caso. Pensiamo, e poi facciamo dei ragionamenti. In questo particolare caso il soggetto sulla destra, Alessandro, ha avuto un ictus e non può più muovere la mano destra, cioè non può più afferrare degli oggetti. Quando non si può muovere più la mano destra, non si possono fare delle cose molto importanti come le operazioni bimanuali, aprire una bottiglia, mettere il dettifricio sullo spazzolino, fare tutto ciò che si fa con due mani. Chiaramente io ho trovato molta letteratura in robotica per gli amputati, ma pochissima letteratura per le persone che hanno avuto un ictus o per esempio un problema alla spina dorsale, cioè non c'era niente di così, secondo me, semplice che poteva essere utilizzato per un qualcuno che avesse ancora l'arto intatto, ma funzionalmente non più funzionale appunto, cioè senza più le abilità di un tempo. In particolare questo soggetto, Alessandro, con cui siamo diventati molto amici, come vi facevo vedere, ha a causa di un ictus una mano completamente chiusa. Beh, noi abbiamo inventato, non sto qui a dire come abbiamo inventato questa idea, ma abbiamo inventato praticamente un pollice opponibile, qui vedete un robot che interagisce con il soggetto e consente di recuperare la capacità di presa, cioè non posso ovviamente mettergli una mano robotica perché l'organo è ancora lì, l'arto, scusate, è ancora lì, e quindi posso aggiungergli quello che gli manca, per esempio un pollice opponibile. Questo fa grandi cose, sono dei robot che sono diventati, che si adattano ad ogni forma di oggetto, hanno un'intelligenza motoria loro, che si integra con l'intelligenza degli esseri umani. Abbiamo fatto anche una start-up, tanti brevetti e successi. Chiaramente questo oggetto è molto importante perché permette di utilizzare tutto l'arto, ok, cioè io se una persona ha una mano che non funziona più, chiaramente con questo pollice opponibile rimette in funzione tutto il braccio. Se non ci fosse questo pollice opponibile, questo signore avrebbe il braccio in tasca, la mano in tasca e non userebbe il braccio e andrebbe giù tutta la capacità, tutta la parte muscolo-scheletrica del braccio. Vi faccio vedere un video di un minuto di Alessandro che torna ad andare in barca e racconta come funziona questo sesto dito. Questo video ha aperto la Maker Faire l'anno scorso. Dura un minuto. Io sono Alessandro Bondi, ho 52 anni e ho avuto quattro anni fa un ictus. Ho sofferto per molto tempo, poi ho visto un ballume di speranza nella tecnologia che mi ha portato a sperare di tornare su una barca a vela. Mi sono avvicinato all'equip di Domenico Praticchizzo, che è l'ingegnere che ha inventato il sesto dito. Nel caso di Alessandro è estremamente utile perché creerà una presa di tipo ibrido, una presa fatta dall'uomo e dal robot. Consiste in tre parti principali. Un motore che attraverso dei tendini trasmette il movimento a questa parte rigida e flessibile che consente di afferrare degli oggetti adattandosi a qualunque forma. Mi rende in qualche modo un cyborg. Sì, lui è diventato un cyborg. Ci sono delle interfacce, quindi io cerco ora di interfacciare l'intelligenza motoria del robot con l'intelligenza motoria del braccio. Vi faccio vedere questo video che abbiamo fatto di un terzo braccio che si interfaccia con la testa di un nostro dottorando che ha un problema serio, diciamo motorio, sia da una parte superiore che da una parte inferiore del corpo. E vedete come lui riesce a controllare questo terzo braccio. Qui si può vedere proprio un capellino. Guardate, con questa interfaccia lui riesce a controllare il braccio. Questo lo potete, poi ve lo lascio nelle slide. Chiaramente anche il terzo braccio del robot chirurgico potrebbe essere controllato dall'uomo. Ma cosa vi voglio dire ora? Vi voglio dire sostanzialmente questi punti importanti. Cioè la specie umana, quindi ora torno a fare un discorso generale dopo avervi fatto vedere cosa può fare un robot, no? Allora, cioè la specie umana oggi secondo me si trova a dover creare una società in cui ci sono delle macchine, in particolare mi riferisco ai robot con delle capacità manipolative, con abilità molto più elevate di quelle dell'uomo. E questo non è un problema, diciamo, banale. Perché per la prima volta, secondo me, nell'evoluzione della specie umana, siamo a creare una società con delle macchine che saranno più intelligenti, nel senso di abili, da un punto di vista sensori motorio, di noi. Vi faccio questo esempio, cioè io faccio sempre questo esempio qui. Cioè se io avessi un maggiordomo che non ho, che non, diciamo, che ho appena assunto, ma so che questo maggiordomo è super intelligente, molto più intelligente di me rispetto a certe abilità. Allora, voi che pensate? Cioè io avrei un po' di diffidenza nell'affidargli le cose più importanti della mia casa, per esempio l'educazione di mia figlia, oppure la gestione dei soldi, dell'economia e tutto, e così. Perché? Perché so che lui è molto più intelligente di me, è fondamentalmente per un motivo vero e proprio, che non mi fido di lui. Cioè non mi fido di lui perché è appena entrato in casa mia, e quindi non so come si può comportare domani, se può essermi un amico oppure un nemico. E qui vengo alla grande differenza tra uomini e robot. Allora, diciamo, è chiaro che se io mi faccio aiutare da una persona che conosco da tanto, so che questa persona difficilmente cambierà il proprio carattere, quindi tendo a fidarmi, no? Perché? Perché gli esseri umani non cambiano velocemente il proprio carattere. Ma se invece questa persona non è una persona, è una macchina, io l'unico vero problema che ho è quello di fidarmi di lui. Cioè io devo essere sicuro che nessuno gli cambi il software, e quindi che non sia hackerato, e quindi che non diventi qualcuno che prima mi stava aiutando e poi mi viene, e poi mi viene, diciamo, mi svolge la funzione del nemico. Quindi io credo che un grandissimo investimento che dovrebbe essere fatto da tutti noi che ci occupiamo di tecnologia è quello di essere sicuri che queste macchine non vengono hackerate. Cioè poi possiamo ragionare anche dei principi etici da inserire all'interno della macchina, però la cosa più importante è che non venga manipolata, perché il robot è veramente un attimo, cioè basta cambiare un software e cambia istantaneamente carattere. Ok? Se fosse un robot con capacità di attaccare, un robot militare, cioè basta cambiargli il software e lui si orienta verso di me e mi fa del male. Quindi è un problema, diciamo, di fiducia. Una delle cose che stiamo cercando di sviluppare noi presso il mio laboratorio, il mio gruppo di ricerca è quello di cercare soprattutto, per esempio, guardate in questo esempio, in questo terzo braccio, no? Questo terzo braccio ora è un amico di MIAI, no? Però a un certo punto potrebbe essere hackerato oppure potrebbe avere, non lo so, cioè sì, potrebbe essere hackerato e potrebbe orientarsi verso di lui a fargli del male. Allora, quello che noi stiamo cercando di fare è di non vedere il robot come un agente che collabora in modo indipendente con il soggetto, ma semplicemente come un'estensione del mio corpo, cioè le interfacce che noi costruiamo lasciano l'ultima decisione all'uomo. Per esempio, con il cappellino o con un qualunque tipo di interfaccia, io posso controllare la distanza del robot da me e quella è una cosa che posso fare solo io, posso decidere solo io, non voglio che sia fatta in modo autonomo. Cioè, quando io integro la macchina nel mio sistema di funzionamento dell'intelligenza sensore-motoria, sono più sicuro di lei, della macchina, perché chiaramente ne controllo un parametro fondamentale, so che mai si avvicinerà a me se io non lo vorrò. Quindi stiamo cercando di aumentare il trust, la fiducia delle macchine, mantenendo un pur minimo, ma importante, controllo diretto dell'uomo sulla macchina. e quindi diciamo, questa è un po' una differenza tra agency, quindi mantenere il controllo di una parte della macchina, questo vale secondo me anche per l'intelligenza di natura più cognitiva, e la delega. Cioè, mi piace sviluppare la specie umana insieme alle macchine, dove non deleghiamo completamente, ma semplicemente aumentiamo le nostre abilità controllando delle macchine in una forma che sia semplice, efficace, ma sicura. non ho più il controllo del tempo, ma spero di non aver sforato. Eccoti. No, ho ancora due minuti, perché non vedevo lo schermo. Non ti sento. Eccomi. Mi sentite? Mi senti? Sì. Sì, sì, ti sento, ti sento. Ringrazio il professor Piatichizzo per il suo intervento, che è stato molto illuminante, per quello che effettivamente possono fare queste macchine. Ho sorriso un po' quando lui ha detto che una persona che conosciamo da vent'anni non può cambiare idea, mentre i robot sono achierabili, nel senso che purtroppo la mente umana, a mio avviso, è più achierabile, più suggezionabile, fino anche dei robot, e quindi ho sorriso benevolmente, e lui ha molta fiducia nell'uomo, evidentemente. E sono d'accordo, sono d'accordo. E plaudo anche all'idea che non ti sentiamo, Domenico. Mi sentite ora? Non ti sentiamo. Mi sentite? No. Ora mi sentite? Io la sento, professor Piatichizzo. La sentiamo? Può parlare? Io volevo dire questo. Faccio un esempio brutto, ok? Brutto. Se pensiamo a... Cosa accade? Io personalmente lo sento, ma se voi lo sentite bene, pare di pure Domenico. Tutte le forme di terrorismo, pensiamo all'ISIS, cioè loro hanno bisogno di istruire queste persone, spendendo tantissima energia, per poi farsi esplodere, magari in mezzo la folla. E questo è legato al fatto che appunto, cioè prima di deviare il comportamento umano, ci vuole veramente, veramente tanto. Invece il robot sarebbe veramente un attimo cambiare il software e fargli fare un po' quello che vogliamo. Quindi da questo punto di vista dico, mi fido di più degli uomini e delle macchine, che delle macchine, perché negli uomini, diciamo, l'hackeraggio richiede molta, molta, molta più energia rispetto a quello che posso fare cambiando il software all'interno di una macchina. E quindi poi sfrutto ancora questi 30 secondi per dire, spiegare meglio il mio concetto. Cioè mi piace andare in una direzione in cui le macchine, siano sensori motorie oppure in natura più cognitiva, digitale, non vengano proprio considerate come agenti esterni che collaborano con noi, ma estensioni delle nostre capacità. Per essere un'estensione delle nostre capacità, noi dobbiamo mantenere il controllo di pochissimi parametri, perché chiaramente non è che possiamo controllare tutto, ma avere, diciamo, l'ultima parola sul funzionamento della macchina. Grazie, grazie. Mi dispiace che non... No, no, grazie. Adesso sono riuscito a sentire perlomeno la parte finale. Grazie. Condivido evidentemente queste osservazioni molto interessanti. Sarebbe anche molto interessante capire meglio quali sono gli strumenti che voi, sotto il profilo del software, della protezione contro l'aggeraggio, state sperimentando, ma ci sarà spazio per un altro webinar, evidentemente, ancora più tecnico. Adesso... Facciamo aggeraggio di... controllo ed aggeraggio di robot, di macchine. Certo. Grazie, grazie ancora veramente. Adesso abbiamo con noi Vittorio Calaprice, della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. e chiedo a Vittorio di apparire in video. Ecco, lo vedo. Grazie, Vittorio. Che appunto ci parlerà come... ci parlerà di come l'Unione Europea si intende muoversi nel prossimo decennio, che è fin troppo lungo come tempo rispetto a questo tipo di... di contesti, di attività, di esperienze per trasformare digitalmente l'Unione Europea e soprattutto i Paesi Mediari. Quindi, a te Vittorio, con la preghiera che è rivolta già agli altri relatori, di mantenerti in 15 minuti, ai circa, per lasciare un po' di spazio alle domande finali. Grazie, io esco dal video. Grazie, Raffaele. Grazie a voi tutti e innanzitutto agli organizzatori di questo ulteriore passaggio di formazione, di questo ciclo di webinar sempre più interessante con i temi che stiamo affrontando questa mattina con relatori di grande livello. Io ho ascoltato e ho preso nota anche delle considerazioni fatte dal professor Praticchizio o dalla collega Emanuela Girardi o una serie di conversazioni anche con il presidente Poccianti. Allora, quello su cui volevo raccogliere la vostra concentrazione, il vostro interesse è che l'insieme di queste tecnologie che la Commissione Europea chiama ecosistema digitale vanno in qualche modo da un lato regolate ed è quello che sta facendo la Commissione con una serie di atti, norme e da un lato vanno stimolate le innovazioni. E come fare che in tutti i paesi questo avvenga? Ecco, la presidente Ursula von der Leyen l'anno scorso ha lanciato il cosiddetto Decennio Digitale che porterà in qualche modo tutti i singoli stati membri a definire in maniera coordinata le proprie politiche sul digitale, ivi compreso le strategie sull'intelligenza artificiale. E se voi vedete anche un parallelo il 2030 ha il primo grande obiettivo dell'altra priorità strategica di cui sentiamo parlare e a cui ha accennato più volte anche Emanuele Girardi cioè il Green Deal lo sviluppo sostenibile che vedrà nel 2030 anche una serie di dati. Parallelamente anche l'evoluzione di questo ecosistema digitale costruirà questo insieme di tecnologie che dovranno integrarsi tra loro in un approccio non soltanto settorializzato ma possiamo definirlo olistico. Allora come fare questo? Vado avanti con la slide e metto questa che è proprio la bussola digitale che gli stati membri e la Commissione Europea dovranno seguire. Come ogni bussola ha quattro punti cardinali che sono le quattro aree di intervento sulle quali si concentreranno le politiche degli stati membri. La prima in alto la vedete riguarda le competenze le infrastrutture di conoscenza sono state richiamate in qualche modo. Da un lato è necessario rafforzare le competenze digitali di base aumentare la cultura digitale dei cittadini europei e dall'altro anche rafforzare e mettere a sistema le competenze digitali avanzate perché la Commissione ha previsto che da qui ai prossimi dieci anni di fatto raddoppierà il numero di specialisti nel campo dell'ICT necessari per l'intero sistema digitale e sarà necessario sempre più accedere fare accedere anche le donne attraverso ovviamente percorsi che riguardano le lauree STEM nel sistema digitale. Quindi abbiamo un primo grande obiettivo rafforzare le competenze digitali lo riprenderemo poi alla fine del mio intervento questo è un obiettivo su cui la Commissione europea sta chiedendo a tutti di lavorare attraverso anche le proprie azioni e parallelamente la Commissione con una serie di programmi lo avete ricordato con Digital Europe l'altro secondo aspetto lo vedete qui alla destra sono le infrastrutture fisiche la società su cui si costruirà la prossima questo decennio una società cosiddetta gigabit per tutti con un 5G che dovrà essere esteso in tutto il territorio dell'Unione Europea dobbiamo anche tenere presente che l'Europa deve competere sta competendo con players mondiali in alcuni settori che sono strategici mi riferisco ai microchip ai simiconduttori di cui state eseguendo vi è una mancanza in questo momento nel mondo ma ancora di più per l'Europa perché i microchip che ormai sono entrati in tantissimi device hanno i più grandi produttori che non sono europei sono asiatici sono americani e questo è un punto fondamentale anche per rafforzare non tanto la sovranità digitale quanto l'autonomia strategica dell'Unione Europea su questi temi il cloud i dati che noi in gran parte trasferiamo anche volontariamente e che creiamo noi siamo messi nei dati continuiamo a creare dati ma i nostri dati anche i dati personali nella in gran parte dei casi vengono dati a società private che vengono diciamo elaborano utilizzano i nostri dati ecco è utile avere cloud nazionali cloud europei vi ricordo che uno dei primi atti del governo italiano è stato proprio da parte del ministro Colau quello di costituire il polo strategico nazionale un cloud che sia come dire conservato sia mette insieme i magazzini i dati secondo livelli criteri di sicurezza diversi ma che siano dati un cloud nazionale pubblico e poi il super computer europeo non abbiamo il tempo di parlarne però tutte queste tecnologie in particolare l'intelligenza artificiale lavorano bene perché gli algoritmi possono acquisire tanti dati ma tanti dati vanno appunto elaborati quindi ci sarà bisogno di maggiore capacità di calcolo e l'Europa credo nel giugno dell'anno prossimo lancerà il suo super computer europeo tra l'altro ubicato a Bologna questo super computer è rilevante per la gestione di dati che anche in questo caso sono legati ad esempio ai dati meteorologici avere super computer che lavorino sui dati meteorologici e avere maggiore precisione nelle previsioni meteorologiche è molto utile così come è molto utile l'ho accennato Emanuele Girardi avere queste grandi capacità di calcolo per replicare la terra è un progetto della commissione che appunto si chiama destination art fare un gemello digitale della terra che significa avere tutti i dati possibili dal punto di vista climatico fisico legato agli oceani cosa che si può fare con un super computer e quindi avere capacità di previsione dell'evoluzione climatica e quindi dai dati utili ai politici per le scelte politiche il terzo punto di questa bussola è legato alle imprese le imprese che devono accedere devono utilizzare il cloud devono utilizzare l'intelligenza artificiale grazie anche a delle piattaforme che può la commissione europea metterà a disposizione delle piccole e medie imprese che a volte non hanno la possibilità di elaborare autonomamente questi strumenti dobbiamo anche puntare sul rafforzamento delle imprese europee per farle diventare degli unicorni l'unicorno è un termine tecnico significa quella impresa che raggiunge almeno un miliardo in gran parte nel campo digitale un miliardo di fatturato l'anno e questo significa che può essere competitiva a un livello globale può diventare crescere essere anche non soltanto all'interno dell'Unione Europea ma avviarsi nella competizione con i grandi players mondiali che sono sappiamo americani cinesi in gran parte e infine ecco la digitalizzazione della pubblica amministrazione la commissione chiede di digitalizzare il 100% dei servizi pubblici e anche su questo il governo italiano l'avete sentito qualche giorno fa ha cominciato ad avviare per tutti i cittadini la possibilità di scaricare digitalmente di fatto da casa alcuni dei principali documenti dell'anagrafe che noi chiedevamo fisicamente recandici a volte negli uffici dell'anagrafe adesso è un processo che porterà di fatto la pubblica amministrazione da qui appunto ai prossimi anni a essere 100% online sui nostri cellulari ma è necessario anche rendere la sanità al 100% utilizzabile con dati personali interoperabili tra vari paesi sulla tessera all'interno di una tessera sanitaria europea ecco questi sono temi fondamentali sono i quattro grandi assi su cui la commissione sta lavorando un tema su cui voglio raccogliere ancora la vostra attenzione che in qualche modo è stato il filo conduttore di questa conversazione è riguarda le competenze digitali qui vedete un'espressione il DESI il DESI è un indice della commissione europea che è stato pubblicato qualche giorno fa ed è in qualche modo la fotografia di quanto è digitalizzata l'Europa sulla base di una serie di parametri di quanto sono digitalizzati i singoli paesi i parametri sono il capitale umano la connettività l'integrazione tra le tecnologie digitali e i servizi pubblici digitali ecco questo indice pone l'Italia al ventesimo posto sui 27 paesi siamo ancora indietro pensate che negli anni scorsi eravamo ancora più indietro eravamo negli ultimi posti quindi ci sono avanzamenti per l'Italia la vedete qui indicata in questo rettangolo in questi quattro settori dove i leader europei sono la Danimarca la Finlandia la Svezia dove però l'Italia è davvero ancora critica nella sua azione proprio nel capitale umano nell'azione riguardante la diffusione della cultura digitale ecco su questo punto devo dire queste iniziative sono assolutamente coerenti con l'azione della commissione stimolare non solo l'interesse ma l'accesso alla comprensione delle tecnologie digitali farà sì che queste tecnologie poi siano utilizzate anche dai cittadini perché non dovremmo trovarci fra qualche anno ad avere tecnologie così elaborate di cui poi i cittadini in generale anche le imprese o la pubblica amministrazione non potrà utilizzare quindi questo percorso è un percorso che deve vedere un'azione sinergica da parte degli stati membri con la commissione europea e deve anche aprire come state facendo voi questa mattina a un dibattito sull'approccio a queste tecnologie che deve essere un approccio sistemico è stato detto eolistico in quanto queste tecnologie non possono essere seguite in maniera verticalizzata ma bisogna integrarle con i vari aspetti dei vari saperi è molto interessante ciò che sta facendo il professor Pratichizzo in cui i temi in questo caso della robotica aiutano lo sviluppo dell'azione umana ma le tecnologie in generale soprattutto in questo caso l'intelligenza artificiale sono di supporto sono uno strumento per l'azione e lo sviluppo in vari settori dalla medicina abbiamo citato alla politica ma anche nel campo del diritto anche nel campo della cultura umanistica ecco tutto un insieme di queste tecnologie devono lavorare per creare questo ecosistema digitale in cui i cittadini europei dovranno e vedranno gli effetti utili per la loro azione le tecnologie secondo la commissione europee devono essere basate su un approccio umano centrico basate sui diritti fondamentali e se vogliamo chiudo su questo il cuore di queste tecnologie è per noi comunque legato al rispetto dei valori fondamentali dell'unione europea che sono incardinati nella carta dei diritti fondamentali dell'unione europea in quello che il professor Torino chiamerebbe la chic humanitaire l'insieme dei valori dei diritti dell'unione europea che è un po' il DNA che ci distingue rispetto ad altri players dell'uomo quindi le intelligenze artificiali la cyber security molto importante in tutto questo sistema dovranno comunque coordinarsi con i grandi temi dell'unione europea con l'azione che sotto il profilo giuridico la commissione europea svolge legata alla tutela dei valori fondamentali della non discriminazione del rispetto dei diritti dell'uomo della libertà di espressione valori per noi irrinunciabili grazie 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 Vittorio per questa chiara illustrazione delle aree principali della busta di un'unione europea e per aver sottolineato come la unione europea anche rispetto al digitale promuove dei diritti e dei principi del resto proprio sul sito della commissione è chiarissimo che esistono dei principi e diritti per l'unione europea irrinunciabili allora faccio una riflessione prima di passare ad alcune domande che vedo nella chat la prima riflessione che spero non voglia essere una riflessione da Cassandra è che fino adesso gli stati membri hanno ben reagito agli interventi dell'unione europea perché non sono stati interventi tra virgolette invasivi ma sono stati semplicemente interventi di supporto l'unione europea ha promesso molto ha promesso soprattutto molti soldi ma non ha ancora regolato se escludiamo il campo dell'area del trattamento dei dati personali l'unione europea non ha regolato alcun profilo dell'intelligenza artificiale ci sta provando c'è quella proposta di regolamento ci sta provando e vedremo perché sappiamo che quando poi le regole devono essere uniformate gli stati a volte hanno posizioni divergenti quindi vedremo cosa accadrà sotto il profilo regolatorio che sappiamo essere un profilo di centrale importanza anche rispetto a tanti temi che hanno sollevato i nostri relatori tu c'è anche confermato come di quello che diceva Emanuele Girardi cioè che la commissione ha un approccio umano centrico mentre noi ci stiamo si vorrebbe soprattutto l'associazione italiana per l'intelligenza artificiale vorrebbe spostare su un approccio pianetocentrico cioè dove l'uomo non è la specie dominante del pianeta ma evidentemente convie con altri però da questo punto di vista possiamo anche dire che tutti i principi della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea spingono anche per una piena coerenza con un approccio pianetocentrico quindi forse è solo una questione terminologica ci sono già alcune domande io le leggo entrambi una diretta proprio al professor Praticchizzo che chiede evidentemente come può un paziente colpito da ictus fare richiesta se deve rivolgersi all'università o se vi sono ospedali già specializzati un'altra domanda che lascio a voi tutti poi chi vuole può decidere di rispondere è quella relativa di Silvia Bragato relativa al rapporto fra uso tecnologia ed etica fin dove è lecito arrivare poi lei la specifica questa domanda parlando della robotizzazione che causerà perdite di posti di lavoro in realtà sono forse decenni che i robot sono entrati anche se più o meno intelligenti sono entrati nell'industria italiana e di tutto il mondo e quindi di posti di lavoro ne abbiamo già discusso ampiamente però lascio prima domanda a Domenico Praticchizzo se vuole rispondere rapidamente e poi agli altri se volessero rispondere alla provocazione di Silvia Bragato sì Domenico dunque sì mi sentite sì io comincio faccio subito un commento sulla provocazione però perché mi piace poi si parla di robot secondo me se noi vediamo il sistema mondo visto che si parla proprio di di umanità di mondo noi stiamo diventando una società fondamentalmente più ricca proprio veramente più ricca perché facciamo più cose fondamentalmente con meno sforzo perché abbiamo le macchine che ci aiutano io credo che ci sia una reale diciamo sbagliata distribuzione di questi vantaggi a livello globale quindi parlo di iper multinazionali e cose che non pagano tasse e cose di questo genere però questo è veramente un altro tema quindi se noi lo vediamo a livello globale abbiamo le macchine che ci aiutano diventiamo più ricchi cioè cosa meglio possiamo aspettarci cioè potremmo dedicarci tranquillamente ai nostri hobby ovviamente quindi a livello globale secondo me la direzione è quella giusta purtroppo si creano delle sacche di distribuzione della ricchezza molto strane e questo creano gli effetti negativi a cui faceva riferimento Silvia però questo secondo me si risolve proprio a livello politico fondamentalmente facendo pagare molte tasse a chi genera ricchezza grazie alle macchine poi chiaramente lavoreremo io credo che avremo anche la possibilità di lavorare meno e chiamare quello che oggi è lavoro chiamarlo hobby per cui dedicarci alle cose che ci piacciono di più questo secondo me è un mondo ideale a cui mi piacerebbe spingere con i robot per quanto riguarda è l'intelligenza artificiale per quanto riguarda il sesto dito robotico noi abbiamo una cultura che abbiamo sviluppato da 4-5 anni cioè quello di fare generare sempre dei brevetti io negli ultimi 4-5 anni credo di aver depositato circa 14 brevetti e questo era un brevetto su cui un'azienda ha investito e ha creato un oggetto che può essere che potrà essere comprato a breve credo e ad oggi è in prova verso in varie cliniche tra cui la clinica Beretta sua Como San Giovanni Rotondo giù in Puglia Rimini e altre parti oltre che nei nostri laboratori quindi comincia ad avvicinarsi veramente all'uso quotidiano anche per avere un'idea dei costi questi sono oggetti che costeranno come un telefonino di altissima di fascia alta diciamo così come un'idea però è una cosa da cui sono un po' separato nel senso che sono l'inventore ho partecipato alla cofondazione ma non ho alcun ruolo operativo all'interno dell'azienda continuo a fare lo scienziato grazie Domenico però la buona notizia è che non costeranno molto e che quindi si sta diffondendo verso varie aziende ospedaliere e volevo sentire appunto il presidente ed Emanuela sulla provocazione allora fatemi dire Domenico ha rappresentato perfettamente il mio pensiero nel senso che noi facciamo le macchine in generale per lavorare meno tant'è vero che come dico sempre io la ruota l'abbiamo inventata tonda perché se l'obiettivo era lavorare di più l'avremmo fatta quadrata è chiaro che la scienza e la tecnologia non è neutrale dipende da dove la spingiamo cioè non è sempre vero che l'uso non è né buono né cattivo perché se io costruisco un drone che poi ha l'obiettivo di ammazzare la gente insomma che quello poi ci faccia del bene è complicato però c'è un problema di fondo che dobbiamo capire il problema di fondo è quello che io vi ho detto all'inizio cioè l'intelligenza artificiale è una tecnologia dichiarativa quindi dobbiamo molto stare molto attenti a come capiamo il contesto questo l'ha detto bene Emanuela anche prima quando ha detto la realtà è quella del cowboy o quella dell'astronave e io ritengo questo se andiamo a vedere gli studi che parlano di perdita del lavoro dovuti all'intelligenza artificiale e alla robotica sono studi controversi tutti gli studi dicono e le macchine sanno fare sempre più cose e in qualche modo diminuiscono il lavoro ma e questo è vero pensate a un cuoco io gli do il frullatore il lavoro del cuoco diminuisce poi devo decidere devo decidere una cosa fondamentalmente io impiego meno pochi oppure riduco il tempo di lavoro del cuoco e permetto al cuoco di fare altre cose e ma se andiamo a vedere tutte le rivoluzioni industriali è sempre stato così qualcuno dice dei lavori sono stati distrutti ne sono stati creati degli altri sì è vero ma sono anche diminuite gli orari di lavoro se oggi noi non ci mettiamo le condizioni di fare quello che diceva Domenico cioè ridistribuire il vantaggio su tutti non possiamo dare la colpa alle macchine perché è un po' come Ned Lude quando distrugge il telaio no? cioè la colpa non è del telaio che sinceramente il poverino non ci pensava nemmeno a essere distrutto la colpa è che chi possiede i mezzi di produzione e oggi la forbice si sta allargando in modo spaventoso non ridistribuisce il vantaggio sugli altri quindi noi dobbiamo ripensare il modello economico e in questo gli strumenti di intelligenza artificiale ci possono dare una mano è chiaro che se puntiamo l'intelligenza artificiale nella direzione sbagliata viene fuori un casino fatemelo dire in toscano stretto va bene? ma dare la colpa all'intelligenza artificiale o ai robot di questo secondo me è un po' come all'asilo quando uno fa una marachella e la maestra dice ah ma che hai fatto? e quello fa è stato lui cioè vuol dire scaricare su qualcosa e do la colpa il discorso qui c'è un problema politico c'è un problema economico c'è un problema sociale e va affrontato se non lo affrontiamo noi difficilmente produrremo gli effetti che vogliamo diventa un'economia e una politica strabica guarda a sinistra per andare a destra va bene? grazie presidente Emanuela hai recuperato un po' di voce e vuoi dire un pochino sì grazie allora volevo dire due cose nel riferimento alla domanda di Silvia la prima sono gli aspetti etici nel senso che in Europa la visione europea dello sviluppo e dell'utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale è quella che le definisce affidabili e questa definizione è molto ben delineata nel senso che per affidabili si intendono tre cose un po' come ci ha spiegato anche Vittorio c'è il fatto che rispettino le leggi europee che rispettino quelli che sono i principi etici europei che vengono definiti molto bene i sette principi e soprattutto che siano robusti anche dal punto di vista tecnico quindi ci sono tutta una serie di requisiti che vengono poi anche regolati dalla nuova proposta di regolamentazione che ci ha introdotto Vittorio quindi io da questo punto di vista non sono particolarmente spaventata anzi forse ci sarà quasi un eccesso di regolamentazione alcuni dicono però devo dire che verranno sicuramente ben definite e quindi utilizzate in modo diciamo in un modo che non possano nuocere le persone chiaramente ci sono dei rischi devono essere tenuti sotto controllo mi spaventa di più tutta la parte relativa alla disinformazione per esempio o alla manipolazione che può avvenire attraverso i social media che vediamo sempre più e quindi quello è un aspetto che mi spaventa per quanto riguarda invece il lavoro e sono d'accordo con quello che è stato detto prima secondo me io sono un ottimista quindi penso che sicuramente queste tecnologie ci permetteranno di vivere meglio quindi di lavorare meno e soprattutto tanti lavori che magari sono più noiosi o sono magari anche pericolosi potranno essere automatizzati pensiamo per esempio alla combinazione delle tecnologie di intelligenza artificiale insieme al 5G insieme all'IoT magari tutti i sensori potranno permettere di rendere più sicuri alcuni ambienti di lavoro che sono oggi ancora pericolosi e leggiamo tutti i giorni ancora di morti bianche sul lavoro quindi magari la sensoristica potrebbe veramente dare un contributo molto utile in tale senso secondo me però la chiave rimane un po' quello che dicevano prima cioè il fatto che che cosa ne facciamo di questo tempo libro uno cioè il fatto che se le aziende automatizzando alcune attività alcuni processi dei quali lavori liberano risorse allora queste risorse a che cosa vengono dedicate secondo me devono essere assolutamente dedicate alla formazione quindi nelle aziende a quello che chiamano il reskilling o il rapskilling e poi soprattutto bisogna pensare anche all'educazione come dicevamo prima cioè il fatto che dobbiamo veramente insegnarle queste cioè insegnare a utilizzare in modo consapevole queste tecnologie perché qualsiasi lavoro del futuro sarà svolto con queste tecnologie e quindi se noi non le insegniamo cioè l'antropologo il filosofo il medico dovranno essere in grado di utilizzare non di programmare cioè non devono diventare tutti data scientist ma dovranno essere in grado di utilizzare queste tecnologie questo è fondamentale e quindi serve veramente un forte investimento in educazione e in formazione certo questo penso che sia uno dei punti centrali se non il punto centrale rimane sempre il problema il tema che mentre educare e formare è facile con le giovani generazioni c'è tutta una fascia di età che ha delle difficoltà a riqualificarsi con questo e quindi lì bisognerebbe investire molto e noi abbiamo terminato a meno che Vittorio non voglia dire qualcosa ancora su questi temi che sono stati sollevati e se non ci sono altre indicazioni ridò la parola a Claudia che non vedo Claudia ci sei? eccola ridò la parola a Claudia per i saluti finali io ringrazio personalmente Manuel Algirardi Domenico Praticchizzo Piero Poccianti e Vittorio Calaprice grazie per essere stati con noi ci rivedremo sicuramente perché a noi piace educare e formare e lascio il video a Claudia per il lancio del prossimo webinar sì innanzitutto volevo unirmi anch'io a Raffaele per ringraziare tutti i relatori è stato veramente un webinar molto interessante ma volevo ringraziare anche i partecipanti che devo dire che ormai ci seguono in maniera diciamo fedelissima e questo ci fa molto piacere vi volevo ricordare il prossimo appuntamento del 25 novembre dove parleremo di strategia europea per la sicurezza cibernetica e la protezione delle imprese e dei cittadini europei come sempre per registrarvi dovete accedere alla pagina dedicata e quindi puoi effettuare la registrazione analogamente a quanto fatto per questo webinar qui poi l'ultima cosa che volevo ricordarvi noi siamo dei centri di informazione dell'Unione Europea Europe Direct nelle nostre mail in tutte le nostre anche sul nostro sito web abbiamo un modulo diciamo per esprimere il vostro parere sulle attività che noi svolgiamo vi chiediamo cortesemente di esprimere il parere sulle nostre attività perché questo serve alla Commissione Europea per capire se in realtà realizziamo delle attività che sono di interesse per i cittadini non vi rubo altro tempo ringrazio tutti e ci vediamo la prossima settimana sempre di giovedì alle ore 10 arrivederci 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 grazie grazie mille grazie grazie a tutti arrivederci grazie mille grazie